bello gianco a bello gigante se continuano a fare zona cerchiamo di sfruttare molto gianco che fanno uscire il centro loro però non convinto bello bello in diversa io prendo sempre pacco e gianco prende il chi era che faceva i blocchi fifu no? ah si alternavano no lo dico per i cambi non per cosa non ce l'ho fatta aha vai gianco bello si devo cambiare solo grobs grobs su chi? su fifu ok possiamo anche chiamare tena un'altra adesso bella bella gianco che è successo? ripendo dall'angolo sinistro? bella ma? no mi ha stoppato meglio che mi fermavo ok ok con calma bel tema out per la marcatura scusa scusa se lì non c'è lì non c'è lì non c'è lì perché c'è lì perché sono altre notifiche? bobo e tu ma? oddio bello sfiga 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 figa 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 f Mi ha difeso, mi ha difeso, bravo. Dai cambia, bello, bello. Cosa hai detto prima, ma? Dai, solo bronze. In che Atomi dovrebbe fare? Allora, vediamo. Perché siamo a zona? Uomo, uomo. Niente. Andiamo a far blow by. Quello è che piglia il contest. Scusa Gian qua. Guarda sto cavallo qua. Ce la faccio aiutare così. Ah, non sa fretta, ragazzi, non sa fretta. Vediamo che devono fare queste. Siete mati. Bella, grobs. Basta, basta, dai. Che partita. Bella, ma? È incredibile. È incredibile. Alziamo le braccia, alziamo. Alziamo 5 secondi. Sì, certo, lo dobbiamo strattare. Iniziamo a mettere dei tiri, Dio santo. Andiamo qua. Ok. Se facciamo qualche contropiede, magari, ci scaldiamo un po' tutti. Eh, mio. Niente, ha deciso lui che devo partire. Bello. Esco, esco io di qua. Non bene. Lo recuperiamo, lo recuperiamo. No, no. Ok. 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 Sì, Mario. Bene, in base, grobs anche qua. Ok. Ok. Io, che c'entro io? È bella. Niente. Mettiamo un tiro, Dio santo. E c'è uno in angolo... Madonna, ragazzi. Sì? Dai, io. Sì, vai Mario. Si è scaldato. Pure l'assist, vai. Sì, vai. Sì, vai. Sì. Perchè? 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 Uhum No Perchè? Perchè? E se il movimento param Stai fuori Bello E Mario Bellissima Io pure ho chiamato Tremalto Non me l'ha chiamato Però Tres 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 Non come, non come. Ti fai finire la stamina, legge tantissimo, bravo, bravo, ok, no, rischioso questo, dai, 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 Salta, ti aiuta il rimbalzo? Ok, che è successo? Guarda questo, comunque con calma, raga, prendiamo il rimbalzo, stiamo fermi, aspettiamo, abbiamo la partita davanti ancora, no, colpa mia, abbiamo falli, bello Tommy, mamma mia questo po', bello, bravissimo, tibla, ok Mario, ha fatto bene, ha fatto bene, ha fatto bene, aiutalo, ok, l'ha messo, l'ha messo, 3 secondi, 3 secondi, secondi, guarda la spalla lenta, tutto lento, andendo aiutalo, andando a bit傳ogia, e mmm e 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 ragazzi ti vedo insieme tu sei nell'angolo opposto giusto ah ok perché quando tipo zona dici tu certo si prendilo bello calma calma ottimo arrivo l'ho alzato guarda cosa fa questo mi chiamano fifu mario c'è una manca si può mettere in posta del proteggere incredibile e pure tu ah ci stavo coprendo bella grossi a me ha preso un'animazione c'è c'è un'animazione c'è un'animazione si fai canestro fai canestro grazie eh non ho ancora niente non mi da niente l'assist incredibile angolo angolo sinistro raga lui di chi è ah ok eh come faccio vuoi tu ma no no bello bello sfiga va bene va bene va bene va bene vado io la ora 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 vai bello 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 no importante ce l'ho ce l'ho si si vai bello bello ottimo ottimo mhm no rego quello fuori cedo e non l'ho visto bello bello ma rimbalzo ma rimbalzo ma rimbalzo che cosa hai messo il takeover del cecchino cioè però vorrei anch'io sto dietro schieno addio santo si tutti marca grobs tutti addio si bello bravo junk vai eh non ce l'ho non ce l'ho no rego non ce l'ho ah pensavo lo bloccassi bella grobs fuori fuori giocata la gian qua si mario si ma non concediamo canestri si si vai ottimo dai sfredda ti ti prego si tommi si 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 vai no bravissima grobs hai fatto lo step back ho fatto la finta bello rimbalzo non ci credo si tommi chiudi no no calmo calmo non è green non è green bravissima è della media rilascio un'altra cosa ma ecco ecco vabbè sto sbagliando la schiacciata no 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 lascialo lascialo ok 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 si john bravissima bellissima raga bello importante tutti più caldi siamo da bel fallo ok va bene va bene ditemelo un secondo prima però raga così è difficile mhm ok io basto le modalità con un attimo d'anticipo c'ho vantaggio c'ho vantaggio raga muovetevi eh c'era uno libero anche qua se vuoi ok ok punti facili bello ok è troppo lontano per aiutarti ce l'ho si Mario se serve bravo Giango si vola 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 si che mi chiama è Ravello pronto va grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti